Diciamo che accetto qualsiasi cosa, tranne che i giochi si bugano tipo Evoland e non ti fanno andare avanti e quindi ti tocca restallarlo per arrivare fino a doveri Perché sì, la mia vita fa schifo così E salvo a tutti, benvenuti in questo cazzottissimo video su H1.1 E siamo entrati Wow E il login screen va a 5 frame Grazie Sony, grazie Oh Il match inizia in 5 secondi, aspettate non ho tempo per fare No, non mi sono dato il tempo Ma che cazzo Si è un po' giato tutto, ok una cittadina, dobbiamo trovare le armi, questa qui è una Battle Royale Non ho avuto il tempo, buttati Grazie Non ho avuto il tempo di dirlo prima perché si Flemavo sul caricamento E dobbiamo ammazzarci, Hunger Games Ecco, però H1.1 j1 Hunger H1.1 games Royal Battle E siamo 120 nel server Solo 120 119 Già stanno uccidendo io ancora sto volando Mi accontento di poco Ok Non funziona il drop Ok Che bella la vita Munizioni E tu? I problemi perchè Non ho spazio Ok, ora si Uno Eh, penso di aver fatto abbastanza punizioni per Iniziare a squarciare il mondo Andiamo Ora siamo agguerriti Ne siamo già 70 Andiamo Sento gli spari, provengono da qui Questo cazzo di gioco mi va a 36 frame Ma ti rendi conto? Cioè il rendering è così È regalato Qualcuno è passato di qua perchè E che Ovvio Gli ho sparato due volte in testa Ma è ancora vivo Certo Ho detto tutto Gli è Puoi non stoppare con la scola, per favore? C'è, io ancora devo terra e c'è gente che già si ammazza. E qui, amore mio. Ok, abbiamo delle buone munizioni per un primo trade e abbiamo anche uno zaino per pigliare tutte le munizioni possibili di questo mondo, di qualsiasi arma, e quelli si ammazzano. Non è semplice, come sempre, la patroia, perché i bug di questo bellissimo... Tiago del cazzo che prima spara in testa uno, e no, perché lui si deve salvare, figlio di troia. Permesso... E qui non c'è un cazzo... Ok, adesso posso... Magari se si sbaggano le ami non le riesco a prendere. E suonano i telefoni a casa mia, perché... Che non scassa dei cagliani tutti i teori è veramente una patente. Ho messo qualcuno fuori, può essere. No? Era soltanto un'impressione. Una macabra... Macabra... Ma... Agrabara... Impressione. Il mondo è invitazione... Hanno sparato con una... Ma era più bello un survival solo con le armi... Niente più... Queste armi di distruzione di massa... Pichiii... E rieccomi H1... Noi due... Schifosa... Batte il roia del cazzo della città... Mi ci schianto... Ma che è questa città? Pleasant Valley? Oh oh... Arrivo Weapon... Hihihi... Mi ci schianto... Gatigna! Magari non su un tetto perché... No, non è Pleasant Valley... Ranchito... No, no... Pleasant Valley... Ok... Ai... Ai... Oh... 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 Ok... Weapon... Dove siete? Ciale... Succesa una macchina... Di terrore... La gente muore così... Hashtag ammazza... Ho detto che il Twitter... Non fa bene... Boom... Le battutone... Proprio... Ah... Si ma se non trovo un palazzo con delle Weapon... Sono fottuto... E' con palazzo? Con delle Weapon? No perché non è un palazzo... E' soltanto un ufficio del cazzo... Il disagio... Palazzi palazzi... I stessi uffici... Mi chiamava Sony... Aveva proprio una fantasia... Nello scripting... Scripting... Cazzo dico... Nel modellismo del... Si modellismo... Ok... Ciao... Addio... Quello? Questo! Se ci fosse qualcosa al suo interno... Magari... Ora mi trovo tipo un mega stronzo che mi spara... Sicuro... Ma... Un'arma... Una pistola con un proiettile... Così... Mi suicidio... No... Un'ascia... Così mi taglio la testa... Tua madre... Mettimi tua madre che la uso come fucile di ripetizione... Per lo meno ci carico... Le cartine... Dovrei smettere di... Far be... Far be... Far be... Non c'è... Una cazzo di arma... No... Non c'è niente... Guardi... Perchè? I buchi nel muro lascio... Mi faccio sentire... Venite... Ad uccidermi... Sono qui... Non so se sparano a me... Mi scrivono... Mi scrivono... Ciao Roar07... Mi scrivi che sei ancora senza mic... E c'è il sottocarica... Appena prendo il mic... Vi aggiungo ogni... Vi raggiungo ogni sera... Martedì escluso... Capito ragazzi... Che vedrete questo video... Oppure... Tu... Che lo refreshi 15 volte... Se ando per darci 15 viso... A caso... Roar07... Ci saranno tutte le sere disponibili... Tranne il martedì... Sì... Perchè la vita è bella... E se io non trovo una... Una cazzo di arma... Una... Cazzo di arma... Vai! Una... Per favore... Cosa? Ci sono le armi ma... Le munizioni ma non la pistola? Ok... Sappiamo tutti che se... La persona armata col fucile... Mi spacca il culo no? E che cazzo... Un fucile contro... Ai! Dico... Poi mi devi dare a settare il pad... Per Dark Soul... Carissimo Roar... Dovresti capire che sto facendo un video... Il pad per Dark Soul... Maurizio mi ha dato i permessi per la sua libreria... Grazie Maurizio per aver dato i permessi a Roar... Ti vogliamo bene... Dona anche tu dei soldi per il povero Roar... Così si può comprare a cavolo Z1... Ehm... Dark Soul... Equipa... Misi... Nubliari... L'inferno... Ma che cazzo sono granate? Roar sta giocando a DELDESKROLL5SK Ai! Ebbene! Vai! Fai il culo! No... Oddio quanti sono... Per ricordare cosa... Non ho...